Buonasera a tutti! Gianluca sei bellissimo! Ma... Ma... Quando voglio spiegare, non ci riesco, insomma. Posso? Mi dai un attimo il telefono, scusami. Io di solito quando... Quando mi chiedono cosa si prova a cantare su un palco dove sette mila, sei mila, sette mila persone cantano le tue canzoni. Io trovo un solo modo per spiegarlo. Cioè, ricordo che ho usato tu con me l'angolo per finire. Non so che c'ho un piccolo problema tecnico, insomma. E allora, sinceramente mi sono inventato sta cosa di... Non vi muite, eh? Sorridete? Danilo manca! Se volete vederle basta venire sulla fanpage. Le altre le pubblico insieme a questa. diceva tutto ciò per chi fa musica per chi fa canzoni per chi fa canzoni è la ma un pavonetto per chi fa canzoni è la consacrazione del fatto che quello che è fatto è arrivato agli altri se non fosse così stasera se i miei ufoni a ogni fine canzoni faceva un applauso detto ciò la prossima è una canzone che non è mia ma abbiamo cantato un po' in giro dovunque sospito chiunque di voi a dire è praticamente impossibile perché o l'avete cantata voi o l'avete sentita cantare da qualcuno o l'avete sentita almeno una volta nella vita o l'avete sentita come ogni sera ma tu sei triste e io non so perché forse tu vuoi dirmi che non sei felice io sto cambiando e tu mi vuoi lasciar io e non vivo più di un'ora senza te come posso stare una vita senza te sei mia sei mia ma niente lo sai separarci separarci un gioco potrà veni qui ascolta mi io ti voglio bene io ti voglio bene io ne prego più di un'ora senza te più di un'ora senza te come posso stare una vita senza te sei mia sei mia ma niente lo sai separarci separarci un gioco potrà separarci un gioco potrà come posso stare come posso stare una vita senza te sei mia sei mia sei mia sei mia sei mia sei mia sei mia